Salve a tutti e bentornati dal vostro Luigi Frio 85. Ho appena guardato il programma di Barbara D'Urso e ha fatto un riepilogo dell'Isola dei Famosi dove la mia mitica, l'unico angelo del mio cuore, la mitica Francesca Cipriani ha fatto vedere le scene dove sbalonzolava i cocomeri e mostrava le natiche buttandosi in acqua nuda. Ammetto che ho avuto un fermento nel mio cuore, nel mio intimo di tutto e di più, mi è partito l'ormone, mi è partito l'embolo Francesca cara, fammelo dire anche se non ci conosciamo le do a lei se vuole, signorina Francesca Cipriani e dico quello che devo dire. Secondo me stasera preannuncio che per la sua bellissima persona per il suo bellissimo carattere prima di tutto il suo buon cuore, la sua effervescente emozione che regala a noi con il suo sorriso, con le sue battute, con il suo modo di fare la sua bravura nel stare anche a seguire l'Isola e fare le sfide di sopravvivenza e tutto insomma, secondo me, seguendo il mio cuore per quanto le voglio veramente tanto bene e non sono una persona che dice vale lo dico col cuore come persona semplice che sono per me vincerà lei stasera assolutamente sì per me lei vincerà stasera l'Isola dei famosi e viva Francesca Cipriani un bacione coraggio ciao anzi ciao patate